Allora, la provvidenza è un libro in forma di dialogo, un dialogo che viene aperto da Lucillo o Lucilio che si lamenta con Seneca del fatto che avversità e disgrazie possano capitare anche agli uomini buoni E com'è possibile che questo succeda se esiste la provvidenza? Seneca risponde dal punto di vista stoico, cioè all'uomo buono non può succedere niente di veramente brutto perché gli opposti non si mescolano Quella che sembra avversità e difficoltà è in realtà un mezzo attraverso il quale l'uomo esercita le sue virtù, cioè un mezzo per far sì che dimostri di essere buono, in quanto tale esce dalla prova rafforzato Quindi in perfetta sintonia con la filosofia stoica Seneca spiega che il vero saggio non può mai arrendersi di fronte alle disgrazie ma le passerà sempre anche se dovrà continuamente cadere e combatterà anche in ginocchio Il saggio comprende il destino e il suo disegno e quindi non ha nulla da temere dal futuro e né deve sperare in nulla perché ha già tutto ciò di cui ha bisogno, cioè il suo buon comportamento La conclusione è che in realtà non succede niente di male agli uomini buoni, basta capire cosa significa male Il male per il saggio sarebbe avere un comportamento malvagio, commettere delitti, desiderare denaro o fama Perché chi si comporta con saggezza ha già tutto il bene possibile, che è il proprio comportamento Per il sostegno dell'ang Azonda Che Allora, non la drogba a tutti Che si comporta con la profanciaedo è un maestro